Most important Italian prepositions, preposizioni, di, of. Questo libro è di Flavio. This is Flavio's book. Sono di Roma. I'm from Rome. Questa borsa è fatta di Anna. This is a bag made of wool. Preposition a. Vado a scuola. I'm going to school. Sto a casa. I'm at home. A chi lo do? To who I give it? Preposition da. Da dove vieni? Where are you from? Dalle tre alle cinque. From three to five. Questo regalo è da noi. This is a gift from us. In preposition. Sto in cucina. I'm in the kitchen. Il libro sarà pronto i quattro mesi. Mi piace viaggiare in aereo. I like traveling by plane. Ci trovi in biblioteca. You'll find us in the library. Proposition con. Stiamo fuori con gli amici. We're out with our friends. Te lo dico con affetto. I'm telling you this with all my love. Con questa crisi chi può comprare una casa? Who can buy a house with this crisis? Su. Up. Vieni su. Come on. Le tuoi chiavi sono sulla sedia. Your keys are on the chair. Viene sui cinquanta euro. It costs about fifty euro. Preposizione per. Per preposition. Per niente. No way. Non è per te. It's not for you. Parto per l'Africa. I'm going to Africa. Andava veloce e lo hanno multato per trecento euro. He was going fast and they fined him for three hundred euro. Preposizione fra or tra. It's the same. It means between or among. Vengo fra dieci minuti. I'm coming there in ten minutes. Tra tutti, Giorgio è il più bravo. Giorgio is the best of all. Detto fra noi. Told between us. A presto.